Ehi, attenti ragazzi, vai. Vado? Va, sì. La sesta edizione di Rock in Roma, un grande momento per la città, tantissimi artisti internazionali e questo accresce ancora di più la posizione di Roma nella cultura, nell'arte a livello planetario. E poi anche un'amministrazione che continua il suo lavoro nella visione dell'ecosostenibilità per cui ci sarà con un accordo con Trenitalia un treno che porterà direttamente al concerto e un treno per ritornare nel centro della città. E chi userà il treno non dovrà fare la fila, avrà un ingresso prioritario. Insomma, un'amministrazione amica della cultura, amica dell'ambiente e orgogliosa del Rock internazionale nella nostra città. Sindaco, mi scusi, questa mattina sono iniziati i lavori a Castelportiano per le ruspe? Sì, niente.